Mi viene da sottolineare, Richetti, che lei continuava a dire, l'ha detto per 3-4 minuti, più o meno, il mio partito, il mio partito. A Renzi non gli scappa neanche da lontano. A lei invece scappa, però io non vedo nessun punto di contatto, io non accuso il mio partito di essere un partito del Novecento. Ti ha ridetto. Io non accuso il PD di essere un partito del Novecento, io non dico che Zingaretti sta portando il partito a sinistra, io non dico che Zingaretti sta guidando in maniera illegittima, anzi, l'ho difeso fino alla fine. Sa che cosa non perdono a Zingaretti? Quello con cui ho aperto un segretario che è eletto davanti all'Assemblea che il Parlamento è pritice e adesso basta per favore accusarmi di essere quello che vuol fare l'accordo con i Cinque Stelle. Vergognatevi di dirmi queste cose, io i Cinque Stelle li sfido e li batto. E poi fa l'accordo con i Cinque Stelle. Io non ci credo più. E sa qual è il problema? Non è Ricchetti. Ricchetti lo risolviamo presto. Ma tutti quegli elettori che ancora danno credito ad un gruppo dirigente che dice senza di me e fa l'accordo, dice che non fa il governo con i Cinque Stelle e lo fa, abbraccia un'idea di politica che...